Sì, grazie Antonia. Vediamo subito le notizie dall'Italia e dal mondo. Iniziamo con la crisi internazionale, doppia manovra della flotta russa davanti alle coste italiane. In azione una coppia di navi nello Ionio, un'altra nel canale di Sicilia. Così Putin tiene alta la sfida con la Nato nel Mediterraneo. Questa era Repubblica e poi passiamo a Sky TG24. Un'ultima ora, Milano, passanti accoltellati per rapina nella zona della stazione. Un ferito è grave, almeno 5 persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto nella zona della stazione centrale. Gli aggressori hanno usato un taglierino per colpire alcune persone. Uno dei feriti, un uomo di 68 anni, sarebbe grave ed è stato portato in codice rosso all'ospedale. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla polizia. E poi TG24, purtroppo una bruttissima notizia. Fermo, bimbo di un anno e mezzo, travolto e ucciso dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorella. La tragedia è avvenuta a Casette d'Ete, nelle Marche, inutili i soccorsi quando è arrivata l'ambulanza. Il piccolo era già deceduto. E poi alla fine chiudiamo con Anza, Migranti, il Papa a rinnovare l'impegno nell'accoglienza. Giovedì il CDM a Cutro, Mattarella, il Cordoglio si tramuti in scelte concrete. Queste erano le ultime notizie. Antonia, ti restituisco la linea. Grazie a tutti.